Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, ma soprattutto benvenuti a L'italiano in podcast. Siamo arrivati all'episodio numero 214 e questa è la puntata di lunedì 17 maggio 2021. Io sono Paolo e sono qui anche oggi, come in tutte le altre puntate precedenti, per raccontarvi qualcosa della mia giornata, per raccontarvi anche qualche notizia dall'Italia, solo quelle principali, quelle che ho selezionato per voi. Non sono troppe, non sono tutte ovviamente, ma sono utili per lo scopo, per il motivo per cui vi parlo ogni giorno, che è quello di aiutarvi a fare pratica di ascolto e per allenare la vostra comprensione dell'italiano quando un madrelingua parla e lo fa a una velocità abbastanza normale. Anche oggi quindi vi faccio compagnia per qualche minuto e spero che non sia troppo lungo come ieri. So che non è una cosa buona, non è utile al nostro scopo di nuovo parlare per troppo tempo perché l'attenzione diminuisce e soprattutto c'è il rischio che il podcast diventi un po' troppo noioso. Quindi cominciamo subito con il racconto della giornata, insomma di quello che è successo in questo lunedì, lunedì di digiuno. Quindi mi sono alzato presto per una lezione che è ricorrente, cioè che c'è ogni lunedì alla stessa ora alle 7.30. È una conversazione molto piacevole e interessante ogni settimana, quindi non è assolutamente faticoso, anzi è un buon modo di iniziare la giornata, il lunedì e la settimana. Ma come ogni lunedì non sono uscito subito dopo la conversazione perché è un giorno di digiuno, perché il bar è chiuso e quindi non c'è la colazione. Senza la colazione diciamo che preferisco uscire un po' più tardi, quindi non faccio la mia passeggiata troppo presto, ma preferisco farla più tardi nella giornata, durante la giornata. Finita questa conversazione quindi sono dovuto invece uscire per alcune spese molto veloci, però avevo dimenticato delle cose sabato e quindi sono uscito per fare degli acquisti molto rapidamente. Ho sistemato alcune cose, ho sistemato questi acquisti e poi dopo ho iniziato la mia giornata. Durante la giornata non avevo altre conversazioni come tutor fino alla sera e ho una un po' più tardi dopo il podcast, quindi queste sono sono le uniche due conversazioni di questo lunedì e questo significa che ho avuto molto tempo a disposizione, che ho usato per creare qualche contenuto per il blog. Sono stato un po' assente, sono passati alcuni giorni senza nuovi contenuti. Purtroppo il fine settimana non è stato molto produttivo per il blog, quindi oggi mi sono dedicato proprio a questo. Ho creato un esercizio sulle preposizioni che voi amate tantissimo, io lo so, per questo creo sempre molti esercizi sulle preposizioni semplici, perché so che avete un grande amore per questo argomento di grammatica. Quindi ho pensato di scrivere la seconda parte della descrizione di questa piccola gita di domenica scorsa, in realtà due domeniche fa ormai, perché avevo scritto la prima parte, avevo iniziato a scrivere la seconda parte, ma non l'avevo completata e quindi l'ho fatto oggi, ho creato questo nuovo esercizio e ho pubblicato anche tre piccoli video che ho registrato in questa giornata per far vedere a tutti voi in quali luoghi mi piace andare al mare, quali sono i miei luoghi preferiti e in quali posti, quindi mi piace anche andare in bicicletta e con i miei amici anche, mi piace andare al mare con gli amici e in questi luoghi che si vedono nei video ho passato molte belle giornate insieme a loro. Questo contenuto mi ha portato via più tempo del previsto, quindi ho fatto una pausa all'ora di pranzo, anche se ovviamente non ho pranzato, ma ho finito però nel pomeriggio poco prima delle quattro, quindi è stato necessario più tempo del previsto, ma ancora avevo molto tempo davanti a me prima della fine della giornata. Durante il pomeriggio ho creato un altro contenuto che pubblicherò nei prossimi giorni e a questo punto ero un po' indeciso se continuare a lavorare al blog o uscire per la mia corsa del lunedì. È stata una giornata un po' brutta per correre perché c'è stato molto vento, molto fastidioso anche, ma alla fine ho deciso di uscire per la corsa perché non ero uscito durante la giornata e quindi volevo prendere due piccioni con una fava. Questa è un'espressione tipica in italiano, quindi volevo fare due cose allo stesso tempo in una volta, quindi volevo uscire un po' e prendere un po' d'aria fresca e allo stesso tempo volevo correre, quindi questa attività mi permetteva di fare tutte e due le cose contemporaneamente in un'unica soluzione, diciamo, in un'unica situazione. Quando c'è questa idea la esprimiamo con questo modo di dire, prendere due piccioni con una fava, cioè con una sola azione ottenere due risultati che ci fanno piacere, diciamo. E quindi ho optato, cioè ho deciso, optare significa fare una scelta e ho optato per l'uscita e per la corsa, anche se in realtà il tempo non era ottimo perché c'era questo vento, non pioveva, non c'erano nuvole ma c'era questo forte evento. Bene, sono uscito e devo dire che non è stata un'ottima corsa, anzi è stata una corsa brutta perché è stata una delle più lente e più corte di questi ultimi mesi. Ho corso infatti solo 8 chilometri, le mie gambe erano molto rigide, molto legate, molto pesanti, vuol dire che i muscoli non erano rilassati, non erano sciolti, non erano abbastanza, come dire, non avevano, sì, quella scioltezza, quella... non erano rilassati, diciamo così. Possiamo esprimere questo concetto con questa parola. Quando i muscoli sono molto tesi, molto rigidi, non è mai un buon modo di allenarsi questo, però nonostante questa rigidità, nonostante il vento molto forte, soprattutto nel percorso del ritorno, perché era di fronte, veniva di fronte a me. È stato molto fastidioso e ovviamente tutte queste cose insieme non mi hanno permesso di fare una bella corsa. Come ho detto non sono soddisfatto, sono stato anche molto lento, ho davvero fatto una delle corse più lente di questi ultimi mesi. Pensate che il mio smartwatch ha detto che posso riposarmi solo 19 ore, di solito alla fine di una corsa. Mi dice 36, 45. Oggi c'era scritto 19 ore di riposo, perché sono stato troppo rilassato, sono andato troppo lentamente, ho fatto una distanza troppo corta, solo 8 chilometri. E forse lo smartwatch voleva aggiungere anche un'altra scritta sotto 19 ore di riposo. 19 ore sono meno di un giorno di riposo, quindi meno di 24 ore. E forse l'orologio voleva aggiungere complimenti. La tua corsa di oggi ha fatto proprio schifo, quindi hai corso davvero male. Cambia sport, ma per fortuna non è successo. L'orologio mi ha solo dato poco riposo, però in realtà io considero lo stesso una buona cosa questa corsa, perché considerando le condizioni in cui l'ho fatta, non è completamente da buttare. La considero una corsa di mantenimento, cioè per tenere l'abitudine, per non perdere l'allenamento, ma non è una di quelle corse che porta avanti, migliora la condizione fisica. Spero mercoledì di riuscire a fare una corsa migliore e di ritornare ai livelli normali. La settimana scorsa ero molto contento della corsa dopo 20 ore di digiuno. avevo molte energie, la corsa è andata benissimo, una delle più veloci, forse la più veloce sui 10 km dell'ultimo anno, ma invece questa settimana questa corsa è stata pessima. Però le cose vanno così, qualche volta va bene, qualche volta va male. L'importante è non fermarsi e non rinunciare mai ad allenarsi. Questa è la cosa più importante. Quindi dopo la corsa ho portato delle piccole cose a mio fratello che avevo dimenticato e poi è arrivato finalmente il momento della cena. Devo dire che anche oggi avevo più fame del solito, quindi deve essere stata una giornata particolare, non so. Però ho bevuto molto anche oggi come lunedì scorso, ho preso alcuni caffè come lunedì scorso. Forse ho fatto una cosa diversa da lunedì scorso. In realtà ho fatto una piccola attività fisica prima della corsa che forse non dovevo fare. Insomma ho fatto un piccolissimo allenamento per un'altra parte del corpo, non le gambe, ma questo può aver tolto un po' di energie alla mia corsa. Non lo so, ma in ogni caso dopo la cena mi sono sentito subito molto molto meglio, con più energie e quindi va bene così. Anche se non è stato un grande allenamento, ma sono soddisfatto lo stesso perché il digiuno è andato bene e devo dire che questo è già un ottimo risultato, quello di fare un digiuno così lungo e riuscire lo stesso a fare attività sportiva senza mangiare. Per me è davvero un grande risultato già solo questo, insomma. Quindi non posso assolutamente lamentarmi. Adesso è l'ora del podcast e alla fine avrò un incontro molto rilassante, molto piacevole come ogni settimana. Quindi fra poco la giornata finirà e potrò riposare tranquillamente dopo questo lungo lunedì molto intenso e pieno di cose da fare. La mia giornata quindi è tutta qui. Vediamo invece cosa è successo in Italia con qualche notizia da giornali, da quotidiani e siti di informazione vari. Bene, la prima notizia riguarda la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Per questa occasione, in questo 17 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso in cui ha ribadito, cioè ha riaffermato, ha ricordato che per l'Italia, ma per tutti i paesi civili, al centro di tutto il diritto c'è il principio di uguaglianza che nel caso dell'Italia è garantito dalla Costituzione e anche dai diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi nel nostro paese e in Europa questi atteggiamenti non sono tollerati e non devono essere tollerati perché sono contrari ai principi democratici su cui sono fondate le nostre leggi. Quindi un discorso importante, quello del Presidente della Repubblica, che in questo periodo è molto sentito perché si discute in questi giorni proprio una legge contro gli atti di violenza, insomma contro le persone con orientamento sessuale di questo tipo, insomma. Quindi c'è una discussione in Parlamento proprio per creare una nuova legge e punire in modo severo tutte le persone che commettono dei crimini che hanno come motivazione quella appunto dell'omofobia, della transfobia o della bifobia. Quindi un discorso che è stato ovviamente molto importante proprio in questo momento particolare. Probabilmente nelle prossime settimane questa sarà una legge al centro della discussione in Parlamento e presto probabilmente ci sarà appunto una nuova legge proprio su questo tema. Un altro problema di violenza invece riguarda le donne purtroppo. C'è stato un aumento di quasi l'80% delle chiamate di soccorso a questo numero, il 1522, che in Italia è il numero di emergenza per la violenza domestica, cioè quella violenza che c'è all'interno della famiglia, ma non solo, insomma, la violenza di cui sono vittime un po' le donne. E nel 2020 appunto c'è stato un aumento incredibile delle chiamate a questo numero per ottenere aiuto, insomma, per cercare di avere assistenza in situazioni così difficili e delicate che ovviamente possono diventare anche molto molto pericolose. E quindi questo è un dato molto preoccupante che deve far riflettere un po' tutta la società civile. Per quanto riguarda invece il bollettino del Covid, oggi il numero dei positivi è davvero molto basso, 3.500 quasi, sono diminuiti molto i test però, solo 120.000. Il tasso di positività è intorno al 2,9%, un po' in aumento e purtroppo sono di nuovo aumentate le vittime. I morti di oggi sono 140, molti più di ieri e ancora troppi quindi, ma speriamo che nelle prossime settimane questa situazione migliori. Per quanto riguarda i vaccini, siamo molto vicini ai 28 milioni di italiani vaccinati, siamo a 27.760.000 e di questi 27 milioni, circa, 8.787.000 italiani hanno ricevuto il ciclo vaccinale completo. Un numero che aumenta ogni giorno sempre di più ha una velocità sempre più alta. Questo ovviamente ha un effetto che già si può notare sul contagio, sulla curva del contagio e quindi, come è promesso, il governo ha cercato di creare un programma, una roadmap si direbbe in inglese, ma in italiano possiamo parlare di un programma, di un percorso per riaprire lentamente tutte le attività. La novità più importante e soprattutto quella più vicina nel tempo è quella del cambiamento nel coprifuoco. Non sarà più a partire dalle 10 di sera, ma a partire dalle 23. È una piccola modifica, ma è un segno di cambiamento. Dal 7 giugno, il coprifuoco inizierà a mezzanotte, fino ad arrivare al 21 giugno in cui il coprifuoco non ci sarà più. Quindi molto presto ci libereremo di questo provvedimento, di questa regola che nessuno di noi ama, perché la parola coprifuoco ci fa pensare a guerre o a situazioni davvero molto tragiche della storia. Quindi molto presto, finalmente, non ci sarà più un coprifuoco. Molto presto sarà possibile tornare dentro i bar al chiuso e dentro i ristoranti anche dal 1 giugno. Questo sarà possibile. Così come sarà possibile dal 15 giugno tornare a festeggiare matrimoni ma solo per le persone che hanno ottenuto questo Green Pass, lo chiamano, ancora una parola inglese, ma è una certificazione vaccinale oppure una certificazione di un test negativo che permette alle persone di stare vicine senza correre i rischi. Fra poco riaprono palestre e piscine. Il 24 maggio le palestre, il primo luglio le piscine, quelle al chiuso. Invece i parchi tematici, cioè questi parchi divertimenti molto grandi, molto amati da bambini e adulti, riaprono il 15 giugno. Altre situazioni, altre attività riapriranno piano piano ma le uniche attività molto arrabbiate, i proprietari di discoteche sono molto arrabbiati perché ancora non è il loro momento. Tutti questi tipi di attività locali da ballo, discoteche, tutto ciò che è simile a questo non potrà aprire né all'aperto né al chiuso e questo ovviamente ha fatto a deluso molti imprenditori di questo settore che protestano contro questa decisione perché la trovano ingiusta. Ovviamente ci saranno altre aperture, altre riaperture ma queste erano un po' quelle più importanti di cui parlare. Intanto la buona notizia è che sembra che per la prossima estate siano attesi circa 39 milioni di turisti. Questa è una ottima notizia, ci sarà un grande aumento ovviamente rispetto all'anno scorso e tutti tutti gli imprenditori del turismo si stanno preparando per accogliere questi turisti italiani e anche stranieri. Quindi l'invito di Draghi a visitare l'Italia è sempre valido ovviamente per tutte le persone che sono interessate a ritornare in Italia o a visitare l'Italia per la prima volta e a noi italiani fa sicuramente piacere avere ospiti stranieri da altre parti del mondo. Con questo è tutto per le notizie non ci resta che passare alle piccole rubriche per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Non ci sono ah no c'è un anniversario interessante è quello dell'apertura dello stadio olimpico di Roma che all'inizio si chiamava lo stadio dei centomila poi è stato ribattezzato cioè gli è stato dato un nuovo nome stadio olimpico e la cerimonia di inaugurazione c'è stata il 17 maggio del 1953 lo stadio olimpico è lo stadio di Roma è lo stadio in cui giocano le squadre della Roma e della Lazio quindi è lo stadio più importante in questo momento per quanto riguarda i compleanni di personaggi famosi oggi vi propongo tre nomi il primo è un grande giornalista e conduttore della televisione italiana e si chiama Gianni e oggi compie 83 anni tanti auguri a Gianni e complimenti per la sua lunghissima carriera è un grande giornalista italiano che ha intervistato importantissimi personaggi da ogni parte del mondo è molto amato dal pubblico e anche dai dai VIP che sono stati ospiti nelle sue interviste un uomo molto gentile molto simpatico e allo stesso tempo un grandissimo grandissimo giornalista un altro compleanno importante è quello di Francesco Nuti un amatissimo attore regista italiano molto molto famoso è anche lui una persona davvero molto simpatica e un attore un regista davvero molto bravo insomma quindi tanti auguri anche a Francesco per i suoi 66 anni ultima ultimo nome che vi propongo è quello di un grande per me ma non solo per me è un possiamo dire attore ma in realtà è un autore di testi satirici è anche un comico insomma è moltissime cose si chiama Corrado Cuzzanti e secondo me in questo periodo storico è forse il più grande autore di satira che abbiamo in Italia lui ha partecipato a molte trasmissioni tv ha fatto molti spettacoli in teatro e personalmente lo stimo molto e quindi è un piacere per me fare tanti auguri anche a Corrado Cuzzanti per i suoi 56 anni ah no c'è un ultimo nome che voglio fare un'attrice molto brava che si chiama Claudia Cole e che anche lei compie gli anni proprio oggi quindi tanti auguri anche a Claudia per il suo compleanno con lei è tutto e possiamo quindi passare all'ultima rubrica quella della frase celebre quindi l'aforisma di oggi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa a differenza che nel cinema nella vita non esiste il replay vi invito a scoprire l'autore di questa fase o l'autrice ovviamente e anche di leggere qualcosa sulla sua vita è un nostro contemporaneo quindi è un personaggio che è ancora felicemente tra noi e quindi ci potrà regalare sicuramente altre emozioni nel futuro e con questa sua frase chiudiamo anche questa questa rubrica del podcast siamo quindi alla fine io vi auguro di nuovo una buona settimana e vi do l'appuntamento a domani per la nuova puntata dell'italiano in podcast per il momento è tutto qui quindi vi saluto e ciao a tutti